Terza edizione di Forum ed Forum Biennale del Mediterraneo, in programma dal 2 al 4 luglio prossimi presso il centro espositivo del Porto Marina di Pescara. Alla presentazione di questa mattina sono intervenuti Daniele Becci, presidente del Centro Estero delle Camere di Commercio d'Abruzzo, Zladan Tupozovic, consulente per l'internazionalizzazione, e Luca Labricciosa, coordinatore dello sportello Sprint, oltre che al vicepresidente della Regione Abruzzo, Alfredo Castiglione. La Regione Abruzzo, da quando ci siamo insediati, crede fermamente nell'area mediterranea e barcanica. Abbiamo voluto dal primo anno veicolare le nostre iniziative all'interno del Forum, perché è un contenitore dove si incontrano le nostre aziende con le aziende transfrontaliere, le nostre agenzie di sviluppo con le loro agenzie di sviluppo. Vi saranno anche momenti di intrattenimento con i nostri artisti e con i loro artisti. È un momento in cui verranno affrontate tematiche anche europee, verranno affrontate tematiche legate alla macro-regione Adriatico-Ionica, dove la Regione Abruzzo si sta spendendo in prima persona. Anche perché c'è questa scadenza del 2014? Nel 2014 la macro-regione Adriatico-Ionica verrà riconosciuta ufficialmente come macro-regione europea, proprio durante i sei mesi di presidenza dell'Italia. La Regione Abruzzo più volte è stata chiamata nei tavoli importanti e questo è un momento di maggior approfondimento. E proprio in questi giorni c'è la concomitanza di un importante ingresso nell'Unione Europea? Proprio il 3 entrerà la Croasia che assieme ad altre nazioni dei Balcani andrà ad infoltire il numero delle realtà presenti nella Comunità Europea. Altre come la Bosnia, la Macedonia, l'Albania hanno fatto domande di preadesione. È un momento di grande fermento, di grande attenzione delle nostre piccole e medie imprese in paesi che si apprestano a diventare l'obiettivo 1. Solo questo fa pensare l'importanza e le grandi opportunità e occasioni che si aprono a poche centinaia di chilometri da noi.